Bentornati amici di Genitorialità e Tecnologia, puntata numero 77. Questa volta non parliamo di genitori ma parliamo di nonni, del resto uso consapevole della tecnologia in famiglia riguarda anche il nonno e la nonna. E vorrei raccontarvi alcuni dati di un'indagine che è stata fatta da Kaspersky. A dopo la sigla! Benvenuti a Genitorialità e Tecnologia, il primo podcast italiano che si occupa di uso consapevole della tecnologia in famiglia. Allora, rieccoci, puntata 77. Mi è arrivato qualche settimana fa questo comunicato stampa con l'indagine di Kaspersky su generazioni e tecnologia, ma non era così generico. Parlava in particolare della terza età o quantomeno over 55. Spero che qualcuno non si senta offeso perché magari entro i 60 anni si considera ancora di seconda età e effettivamente è così, nel senso che le generazioni si sono un po' spostate. Chi ha 60 anni adesso è come se ne avesse avuti 50 negli anni 80. Ecco, che cosa dice questa indagine Kaspersky che mi ha un po' colpito? Innanzitutto il titolo era Il 17% degli over 55 corrompe i familiari più giovani per un aiuto tecnologico. In particolare a mettere un po' in difficoltà gli over 55 che quindi si rivolgono ai più giovani sono alcune problematiche legate all'installazione di alcune applicazioni oppure di programmi, la sicurezza informatica, la protezione di alcuni apparati tipo il router di casa che non è poi così banale da installare e soprattutto questo terrore atavico dei virus informatici. Ecco, nonostante queste preoccupazioni però c'è una nota positiva. Il 71% degli over, quindi di questi over 55 in Italia, dichiara comunque di avere delle ottime conoscenze informatiche. Io su questo avrei qualche piccolo dubbio perché effettivamente c'è poi quello studio di Danning Kruger, mi sembra che si chiami, che dice che meno conosci un argomento e più ti senti sicuro su quell'argomento. È un paradosso chiaramente, ma è anche logico nel senso che più approfondisci un determinato argomento più scopri di saperne pochissimo. Quindi è un paradosso della conoscenza. Allora, torniamo ad alcuni dati di Kaspersky. Un terzo, nel dettaglio il 35% degli over 55, si trova a dover affrontare sfide tecnologiche quotidiane, ma da solo, cioè senza alcun sostegno. In Italia chiaramente è un po' diverso qui la logica della famiglia, del vivere in famiglia, delle relazioni familiari è più forte rispetto che altrove, quindi diciamo che la quota da 35 scende sotto al 30%, esattamente il 29%. Il 41%, nel nostro paese è 44, degli over 55 ammette di telefonare ai membri più giovani per avere qualche spunto informatico da remoto, cioè credendo di avere in casa una aranzulla, lo chiama per dire guarda che non riesco a fare questa cosa, come faccio ad allegare, devo trasformare un pdf in un doc e viceversa, e non sono esempi a caso perché mi sono successi negli ultimi giorni. Il 15% degli intervistati, 17% in Italia, dichiara di aver appunto interpellato, anzi corrotto addirittura, quindi a fronte di pagamento, un componente della famiglia per avere aiuto. Allora, questo sondaggio mi sembra abbastanza interessante, nel senso che non mi era mai capitato di vedere dati di questo tipo, è anche la testimonianza e dimostrazione di quanto questi temi stiano diventando veramente interessanti e mainstream. Continuando a sciorinare qualche dato, più di 5 italiani su 10, stiamo parlando del 47%, mentre a livello globale è 40%, descrivono la tecnologia come qualcosa che li aiuta, li rende emancipati, li fa sentire più liberi, quindi questa secondo me è una cosa assolutamente estremamente positiva. dico sempre da questo podcast, ma che quando vado in giro per incontri, conferenze, workshop, che comunque la tecnologia non può essere il male, non può essere l'origine di tutti i mali, non può essere incolpata come appunto uno strumento che degenera la nostra santa generazione o le nostre sante generazioni, è assolutamente invece sbagliato, considerarlo così secondo me, perché la tecnologia è sempre solo uno strumento, se lo usi bene è meraviglioso, se lo usi male hai. Altra informazione che mi sembra interessante, tra gli over 55 comincia a emergere quella che abbiamo più volte chiamato anche in questo podcast, FOMO, Fear of Missing Out, cioè la paura di essere tagliati fuori. Se non sei su questi strumenti, se non usi lo smartphone, se non hai Skype, non puoi essere coinvolto dalla vita e dalle relazioni con gli altri. Allo stesso tempo però più della metà degli intervistati comunque ammette di avere qualche limite, cioè di non intendersi di tecnologia. Due over 55 su 10, quindi poco più del 20%, ammette di non avere dimestichezza per niente qui in Italia, quindi soltanto, diciamo, 2 su 10 sono così umili da ammettere di avere qualche lacuna. Invece il 71,5% dichiara di sapere eseguire, per esempio, il setup di un router o di un PC. Sono tanti, 7 su 10 secondo me sono un po' tanti. Allora i dati potrebbero essere anche, diciamo ce ne sarebbero anche altri. Per esempio, che ne so, poco meno della metà degli intervistati in Italia, 48% ha dichiarato di essere convinto di disporre di una soluzione di sicurezza adeguata e aggiornata. Anche in questo caso questa convinzione contraddice le statistiche che dicono che invece non siamo particolarmente schillati o aggiornati per quanto riguarda appunto questo aspetto. Devo dire che abbiamo, secondo me, dei dati molto interessanti. Quello che posso fare è, nelle note di questo podcast, darvi il riferimento di tutti questi dati, in particolare sul sito di Kaspersky, nel blog di Kaspersky, ci sono tutte le informazioni per poter approfondire questi dati e magari trovare anche delle risorse per aumentare le proprie competenze digitali. Adesso, fine di questa brevissima puntata, vi aspetto alla prossima. Grazie, ciao! Per tutte le informazioni su genitorialità e tecnologia visitate il mio sito www.gialluigibonanomi.com